Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi vediamo cosa bolle in pentola su simdrivers.eu allora voglio fare questo video proprio perché insomma per darvi una carrellata per fare una carrellata di tutti quelli che sono gli eventi che stanno per arrivare e quindi le possibilità che avete di potervi iscrivere e per non perdervi nessuna possibilità appunto di poter accedere a questi eventi messo da parte il campionato a sette forze competizione attuale Battle for the Ground anche ormai è al giro di Boe e mancano solo due gare avete subito imminente il vi metto subito la locandina il Legend Know Out il 18 febbraio quindi questo venerdì alle 21.30 come al solito for fun con queste belle Legend che sono bellissime da guidare sul circuito di Mores o Mores in Sardegna molto corto per far aumentare l'adrenalina con una formula ad eliminazione in stile le sedie musicali sono tre gare sprint da 20 minuti ragazzi vi lascio andare a scoprire e qui vi dico come fare basta leggere qui il QR code per accedere direttamente al canale dedicato appunto di questa for fun dove è spiegato tutto come funzionerà vi aspetto numerosi ragazzi perché mancano pochi posti e più siamo e meglio è quindi non esitate a leggere questo QR code e ad iscrivervi basta lasciare nome e cognome per l'iscrizione e poi andate a leggere come funzionerà queste scale musicali dopodiché ragazzi QR code anche qui per l'iscrizione al prossimo campionato di queste fantastiche IndyCar ier 18 dall'Ara appena uscite nuovissime per R Factor 2 inizia il 18 marzo finisce il 13 maggio con 5 appuntamenti molto interessanti con una formula super pollo in mezzo con due gare una long una short 45 15 minuti punti dimezzati qualifica la super pollo solo per i primi 10 c'è una formula veramente fantastica a squadre ragazzi e in particolare vi vi dico affrettatevi perché mancano solo tre posti per tre squadre se non avete una squadra c'è un canale dedicato che se se andate qui c'è scritto cercasi compagno mettete il vostro nome perché se potete se magari c'è qualcun altro che cerca potete fare squadra mi raccomando ragazzi questa è una formula molto interessante questa indie un campionato veramente straordinario per quanto mi riguarda io vorrei veramente essere in pista per poterlo fare ma sarò in camminare in commento a commentarla quindi IndyCar e inizia il 18 marzo dopodiché ragazzi non abbiamo ancora tutti i dettagli però sabato 5 marzo normalmente parte la prima for fun endurance di SimDriver se la prima in assoluto durerà tre ore e mi pare che le squadre saranno da due non ho altri dettagli non so il circuito so che saranno le LMP3 ragazzi quindi molto interessante quindi state attenti e preparate già una squadra da due perché appena inizieranno le iscrizioni lancieremo le iscrizioni e lo faremo presto sicuramente i posti andranno via subito perché è un evento veramente molto interessante tre ore è sempre interessante e le endurance vanno forti in questo momento dopodiché ragazzi quindi questi sono le due for fun quindi le legend più la endurance e il campionato indie dopo questo di asset corsa competizione tutte e tre saranno su le factor 2 ovviamente stiamo preparando un campionato amar cord con una bella mod stiamo impazzendo con fabio per trovarla per cercare di appunto fare un campionato che ci riporti alla memoria di quello che è stato uno dei primi assoluti che diciamo ha lanciato sim driver sull'organizzazione dei campionati quindi ragazzi nella speranza che questo video vi sia utile per correre ad iscrivervi se non avevate visto questi eventi vi ho lasciato i QR code ma vi lascio tutto anche in descrizione vi aspetto numerosi a questi eventi io ragazzi come al solito se questo video vi è piaciuto pollice in su non esitate ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto tanto è gratuito attivate la campanellina per essere notificato e ogni volta pubblico un video noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto ciao